E' un po' di tempo basso, la palla Jackson che si sfida e infina Non ho niente male, nei primi 20 minuti di gara Quindi dare profondità correndo tutto il campo, può portare ulteriore velocità e dinamismo Non capisco se è una difesa mista, intanto viene bene Sempre per riuscire a scardinare la difesa avversaria, ancora Jackson Assolutamente in questi casi forse il tiratore è il migliore Parte destra, palegginello alla schiena per Jackson Non ci pesano Villa, Jablanovski, dentro Williams, va a ostacolare Villa che scandaglia l'attacco Jackson in arrivare Perché l'abbiamo detto, ha visione di gioco, ha buone mani per passare, per dare assist alle compagne Per la Trimboli, attrice di una tripla fondamentale Corto, ancora Gray, la stoppata questa volta di Jackson La transizione, fondamentalmente la transizione Metaggiras va dentro Piede con Matilde Villa che proverà a trovare il canestro con Jackson All'appoggio il canestro Dentro per Jackson contro Razzas Per il quale andrebbe multata per eccesso di velocità Sbaglia la tripla Fa anche dell'energia, della vivacità, della velocità La propria carattura Non cira velocemente perché la difesa di Costa Masnaga intasa molto bene l'area Ma poi ha qualche difficoltà a riaprirsi Ma tutta Villa che cerca di andare con la mano destra Noia trova lo scarico per Jackson dalla sua mattonella Ancora la numero 10 Sono bravissima Questo è scarico per l'arresto di Villa Lo scarico a sua volta per Jackson Da 3 I cinque segnati contro Sasseri nel Gerbeinstein Proprio Villa in palleggio da Jackson Nell'angolo È un'ottima lettura Jackson per Wogen Dietro Toffali Sbaglia ma rimasto proprio di Jackson Jackson vuole il pallone Il pallone arriva Cacici stia in alto E poi fa correre Toffali in contropiede Pesca Jackson per la tripla Come una bella stazza muscolare al seguito Jackson uno contro uno va dentro E cambia mano Ma nuovamente andare verso la sua numero 7 Ma che viene scipata del pallone Il tiro arriva Alzo di Jablonski Poi Toffali Il tiro di Jackson Un po' aperto Questo ball handling Cambio di velocità E cambio di direzione Se lo fassi forse Per Aglievi può ripartire però Costa con la tripla Jackson nuovamente per Matite Villa Il raddoppio da 3 Jackson con spazio Dentro per Cacici Inverno Va via Tutta la difesa E si è andata a Frisco E intanto Jackson Bella Zona E Costa E già dall'altra parte Hogan Va Le rocce per il sud Super Poi ha fatto un controllo Splendor Il palleggio dietro la schiena Piede perno Palla fuori nuovamente per Jackson La finta di end off E arresto E tiro ancora Palla fuoriц